Aspetta, fammi avviare Favut Night A posto Comunque, il gioco di Spongebob, lascialo stare Cioè, io sinceramente Ehm E' uno di quei cosi un po' arcade, sai? Quei cosi strani, dove c'è una mappa con personaggio E' orribile Ehm Ehm Se ve l'avrei detto di scaricare Avrebbe fatto la fine che ha fatto quell'altro gioco Quella come si chiama Ehm Quello con il robot che aveva detto che fa schifo Ah, ho capito Il gioco di merda là, insomma Genesci un zir Esatto Un attimo che sta a preparare Allora, qua sta a posto A posto Oggi c'ho internet illimitato sopra il telefono Perché? E' perché Team ogni volta che arriva la fine Tre giorni prima della fine del mese Mi regala internet illimitato Dall'anno scorso sta a fare così Un attimo mi do toglie cuffie Eccomi qua Ah, ho scaricato il pacchetto Winter Non so se sai cos'è Sei scaricato? Il pacchetto Si chiama Aspetta Non so se si chiama pacchetto winter Comunque pacchetto inverno Praticamente ci sta Una skin bianca per i fucili Ehm Un paio di Ma il plus Si Però se hai il plus Capito da? Ti danno pure Una skin Allora aspetta C'è una skin Per i fucili Poi ci stanno Un paio di Strumenti di raccolta Ci sta Le denti da neve Praticamente sono un paio di Accette Poi ci sta Un emoticon Poi c'è L'icona Uno standard Nuovo Dove ci stanno I fiocchi di neve 20 stelle Battaglia E poi ci stanno Una specie di Gun ombrello Si chiama Un ombrello Un paracadute Cibernet Dove devi andare Su playstation Sopra Su playstation store Fortnight E poi si è scritto Per utenti ps plus E ti esce automaticamente Quello Quello Deve andare su fortnight No Devi andare su PlayStation store Devi andare su Un po' mi uscito Eh Un paio celebrativo Esatto Allora dove cazzo sta sto coso? Allora l'armadietto, la me la toglia non mi piace Sto facendo delle modifiche alla skin perchè sono un bambino e devo fare la skin perchè quella è la skin number one Allora togliamo questo Ah mo hanno suddiviso, anche le icone hanno suddiviso Ecco andiamo mirato su Aspetta sto facendo un po' di modifiche E' tre ore Eh si Aspetta Ma posso, ho accettato l'invito di vostra signoria, va bene? Siete contento? Marco, sembra la nostra tattica eh Si, ma quello sembra, quello si, mi pare ovvio Anche qua adesso, quella sarà la tattica ormai Io gli ho spiegato, cioè gli ho spiegato, gli ho detto Alessio poi dovevo spiegare una tattica Ah, lunedì domani viene? Eh domen- no, lunedì pomeriggio Cioè alle- Eh, lunedì domani Alle 12 dovrebbe finire Tra le 12 e le 13 noi dovremmo già stare lì per poterlo prendere e portarlo a casa Ok E tornerà A quale andate? Eh, la mattina presto Quindi verso le 10 barra 11 dobbiamo partire Ok Con 200 V-Bucks che si può comprare? Niente Eh no, niente Na merda, una miseria proprio Tu 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 Hai visto? Mi piaciuto il video come ho fatto? Come abbiamo iniziato la giornata e come è finita Eh sì sì sì, quello si è lasciato bene Io che devo spegnere computer, portatile, telefono per avere un minimo di connessione decente Allora, dove ci vogliamo buttare? Allora, decidi tu, vai Allora, andiamo Andiamo Oh, questo mi sono una casa Vabbè, andiamoci là, vai A me ha sparato una laggata fenomenale Niente, sto livello 10 non me lo vuole far sbloccare Ah, finalmente, livello 10 l'ho sbloccato Allora, come ci organizziamo per disintegrare questa casa? Mmm Eh, vediamo un po', basta che abbiamo una, almeno una Allora, tu entra in questa, alla collina qua sopra, ce n'è sta un'altra Io vado a questa qua, qua sopra, dove non c'è nessuno, praticamente Tu vada a fare quella che segnavo tu, mi vada a fare questa qua sopra qua Dov'ho staccare in Sì, poi ti vengo dietro, non ti preoccupare Ah dai, l'hai visto tu il... Vabbè, vabbè, lui ti ho detto, la live che avete fatto oggi No, ci sta un ragazzo che gli ha fatto tipo uno screenshot E l'ha messo su Instagram Io ho fatto lo screenshot a questa cosa e glielo ho mandato a... 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 Sir, gli ho scritto Quando lo vedi, quando la ragazza che stai stalkerando da un anno Si presenta davanti a te, ma con un altro Senti una cassa Sì, aspetta Questa cassa qui non va bene, Marco Perché? Perché è troppo piccola Vieni da, dove ti ho segnalato, ci stanno due loot, vieni da me Ti serve un cecchino, vuoi? Sì, ci sta arrivando in modo da te, quindi... Ok Tieni, troppo un pompa E ti troppo... Qua ci sta pure essa arnese strano che piscia lo scudo Teo, piedi pure due scudi Oh, 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 Davide Davanti a me, davanti a me Ti serve un fucile sta qua, eh Oh, però mi ha sparato... Mi ha sparato... Ho messo un nuovo fucile Fucile d'assalto MK Davide, è dietro Ma se non me lo dici Eh, non è un MK Questo è uno scaracca, questo qua Ho ammazzato Eh, è appassato l'improvviso, scusami Mi sono accorto troppo tardi Ma tu che dici, Davide? Cioè, il che porco... È perché ho visto che stavi girato Ho detto, magari, forse non se ne è accorto Oh Lo sceldino l'ho buttato Perché tanto non... Questo non è un MK Questo è un... Quanto l'hai buttato lo sceldino? Sta lì È uno solo ce n'è stata È inutile qualcosa Devi portare... Cerca di portare... Le bende Allora, mo' che ti dico quello che c'ho io Io c'ho un kit medico grosso Eh, poi c'ho questo fucile MK nuovo Eh, fucile da... Si chiama fucile d'assalto da combattimento Poi c'ho la mitraglietta E due granate Vabbè, vi tolgo le granate E tolgo... Ho preso tutte le granate Ho preso la... La benda Che in realtà non sono la benda Sono le bende Perché sono dieci Allora, facciamo una cosa Manco, andiamo di là Eh, si Ci andiamo a mettere... Ah, qua è probabile Che troviamo qualche lutte Perché io sento C'è qualcosa che fa rumore Perché qua c'è una pistola Se la vuoi Auguri Grazie Poi c'è il kit riparanebbia Arco, qua non è un posto in cui ripar... Arco, vieni da me, vieni da me Aspetta, la vede Sto appigliando un po' di roba Sto arrivando, aspetta Apri, apri le munizioni Eh, sto cerchino Davide, io c'ho il kit medico grosso Tu lo vuoi? No, portalo tu e poso le bende Ti vieni le bende, da Eh, io c'ho il shield, già Eh, questa roba come la facciamo a portare? Eh, Marco, devi portare il kit medico soltanto Eh, le bende le lascio lì, allora Eh, lascialo là, le bende E qua ci sta pure il... L'hai buttato tu il cura a bomba Lo lasciamo qua E per il momento, Marco, c'è... Ah, comprendi un altro medico, qua ci sta L'hai trovato? Si, sta qua Eh, ci sta qua No, c'è un loot, c'è un loot, un loot, aspetta Aspetta Ho preso, ho trovato già un altro io qua Ne ne tengo tre Porto il massimo Marco, venite a prendere questo... Questa pozione qua Eh, la prendo ma... Ah, no, no, no Era... Se che tra di giugare Però già si viene Io non posso portare più niente Già c'ho tutto io, eh Si, si Aspetta che so... Avveni a te Sento il rumore della cassa, qua, eh Dov'è qualche parte Aspetta Nesta Trovato io Io prendo... A me servono le munizioni per il fucile a pompa Mi servono a me Quante ce ne hai? Eh, mo 18 Perché ho trovato qualche cosina Però... Ah, c'è fucile d'assalto MK7 Lo vuoi? Dove sta? Eh, non riesco... Aspetta, vediamo se... Sta là, sta là davanti Ah, è lo stesso che ce l'ho qui Ah, dammelo C'ha il mirino, quello? Sta... Marco, se ti piace quello col mirino Sta sopra, quello blu No, fammi vedere sto... Ah, fu... Forte sto fucile a salto Allora lo scambio con... La mitraglietta è inutile Perché non mi serva a niente Recarico il fucile a pompa C'hai qualche munizione per il pompa? A qualche parte? Se tu ce la hai pompa, non lo so Sì, non ce l'ho Ma perché non riesco a salire? Gli altri salgono da tutte le parti Con questi casi Solo io non riesco a salire da nessuna parte Allora, Marco Rispetto all'altra volta C'abbiamo pure un buon Armamentario Eh, sì Eh, ma non sappiamo come funziona sto fucile Perché mi pare che funziona bene Però non vorrei che sia uno scam Improvviso Sì, Marco, vi do Grazie A posto Marco, io comunque ho visto le clip tue Eh Ma tu sbagli, provi a sparare, Marco Eh... Da lontano non ci puoi sparare col pompa Eh, lo so Quando sta ricarica l'arma non devi ricaricarla Cioè, non devi spiegare tempo a ricaricarla Devi cambiarla e metti la mitraglia Eh, il problema era questo Quando ho fatto quella clip lì Mi sono reso conto che avevo tutte le armi scariche Io non so per quale motivo L'ho ricaricato Un po' in generale ho visto tutta la line Eh, Marco In generale ho visto tutta la line Tu spari da lontano con le Cioè, tipo Con il fucile d'assalto Eh Tu non ci devi sparare quando sei vicino Quello di cui sono soltanto o mitraglietto o pompa Eh Così, sono abituato male con Warzone Capito? Cioè, io Warzone non so Non so se funzionano Cioè, praticamente è inutile Perché poi quelli che usano la mitraglietta Ti sparano più colpi E quindi è ovvio che il tipo del personaggio Cioè, tipo La seconda vittoria che abbiamo fatto Io ho visto tutto il personaggio E stavi morto praticamente Eh, lo so È rimasto di voi 10 o 20 di vita Comunque cerchiamo di andare in safe E poi buttiamoci dentro una casa È già È da troppo questo Non dire Nemici, dietro di te Dietro di noi No, no, scappa, scappa, scappa Quello ci voleva investì Scappa, scappa, Marco Scappa da qua Ovviamente il mio personaggio è stanco Eh, certo Mi pare una cosa logica, no? Andiamo qua, sopra, Marco Dai qua Sto salendo, eccomi Coprimi un attimo che qua Davide, hai saltato una loot meravigliosa Cioè, stava tutto sotto di noi Un attimo, fai mettere qua due secondi Infatti Mi sto imparando ad usare Sì, sto io Andiamo in safe Andiamo là dove sta la casa Quindi Andiamo, andiamo Siamo, siamo, siamo Il problema è che dobbiamo trovare una corda, Davide Perché se no non possiamo scendere Marco, prendi il cazzo di cosa per volare Ah, ecco, ecco Sì, sì Eh, io sto atterrando un pochettino prima No, cioè Un pochettino Tipo C'è una 90 anni di metri Ok, mo che entri dentro sta casa Poi chiudi la porta Sì Mi raccomando Ah, ma io c'ho ancora la coroncina Da, noi siamo segnati come quelli che hanno vinto l'ultima volta Ah, sì, perché noi poi non abbiamo fatto più cortile Eh Dobbiamo salire al secondo piano, da, andiamo al secondo piano Sì, sto prendendo un attimo i colpi qua Vediamo tutte le porte Da qualche parte qua c'è la lutta Vi salirò con questo muro qua No, Marco, no Oddio No, no, prendilo qua Non c'è niente Come no? C'è il barilotto, vuoi? Eh, quello se è buono Eh, lo so Non c'ho più spazio È buono, sì, si vede, è un po' tutto meglio, si vede Però, Marco, ci mettiamo qua? Sì, vai, metti là, vai Io guardo col cecchino qua nei tintorni Perché vedo che a Nord A Nord S60 A S65 stanno sparando Però non vedo nessuno, ecco Per ora non vedo nessuno Quindi mi metto qua vicino a te Bello, sto fucile col manico rosso Fucile d'assalto MK7 c'ha il mirino È figo, mi piace Però non capisco perché tutti quanti hanno il Red Hot Ah, dai, lo sai qual è la buona tattica? Praticamente quando buttano a terra sta bomba a scudo La possiamo buttare per terra E quando ci sparano Noi rimaniamo nel raggio della bomba a scudo Così ci ricarica mentre gli altri si sparano addosso La safe è proprio praticamente a 5 metri davanti a noi Che stronzi Non trovo... Non mi sembra che ci siano casette Casette? Ok, cosa ho visto? Aspetta Che cosa ho visto? Aspetta No, questa era una mia allucinazione Andiamoci Noi abbiamo quattro come gatti Cerchiamo qualche casettina C'è l'altro Mi vieni con l'arma in mano Eh, mi pare ovvio Ovviamente il mio personaggio è stanco Cioè, non poteva non... Oh, Marco sta qua Lasciame Aspetta Lasciame, lo lascio, lo voglio fare io Marco, lo voglio uscire io E se ti piace questa pompa prendi solo pure No, no, no Ah, oh, c'è un fucile C'è il... Cosa d'oro là, oh? Eh, quello che sto dì Eh, no, questo non mi piace Mi piace quello che c'ho io Oh, sono rimasto con 85 colpi per l'assalto io, eh Cioè Provato io qualcosa, aspetta C'ho 36 per il pompa Mi piace questo qua Andiamo dentro il benzinaio Eh, andiamo là, andiamo là C'ho tutte le armi cariche io, eh No, qua non ci possiamo mettere Chiudiamo la porta No, qua no No, qua no Marco qua, vieni qua, vieni qua Perfetto Ah, eccesso, 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 eccesso Ok Ok Dai, io questo fucile a cerchino non lo tolgo perché è tanto inutile Sì, Marco, mo' arriva la parte in cui non dobbiamo fiatare Va bene Io ti do posto da questo Apposto Passa, 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 posso, apposto Io c'ho le armi cariche C'ho... Non cambiamole più C'è lì da me E rimane un po' Sto col pompa a mirare la porta Perché questo qua è roba buona Sto fucile a pompa Si chiama Fucile pesante a tamburo C'è qualcuno con la macchina Eh, c'è qualcuno che sta rovistando, Davide Ah, no, non è che sta rovistando No, non è, non è qualcuno Dammi Eh, lo so che ansia, lo so Oh, sì, sì, sì Siamo passi, passi Sono molto vicini, sono molto vicini Oddio, Marco Oddio Cazzo Sono proprio qua fuori Uno l'hanno ammazzato Ho visto, ho visto Ma secondo me, Davide, questi stanno per avere la stessa idea nostra, eh Sì, perché stanno un po' qua fuori Sì Oddio, oddio, oddio Eccolo Ma cazzo è l'Ucraina? Davide, attento Questa è una zona pericolosa Mira, Marco, mantieni mirato Io sto mirato, sto mirato, Davide Oh, ma non muore nessuno Eh, ma questi secondo me stanno a sparare con qualche cosa, perché Io ho queste tre granate e le vorrei lanciare addosso, però secondo me faccio una strozzata Ma perché ti sei portato le granate, Marco? Eh, quelle sono buone, quelle creano confusione Non sono buone, supporto, non le usa nessuno Ma creano confusione Ma basta Perché creano confusione? Certo Tu, mentre le stai a sparare, mentre uno sta a sparare, li distrae Marco, Power Ciccio Gamer Non le usa nessuno Non le usa nessuno? Perché le devi usare tu? Ma perché hanno l'effetto L'effetto sorpresa Ma no C'è un bel tetto, Marco Sì, lo so, lo so Vabbè, vabbè, i sette in realtà sono cinque, in realtà Perché in questi sette siamo compresi anche noi Ah, sì, sì Ecco, eh, sono cinque miei amici Quindi vuol dire che c'è sta una squadra da due Due da due e uno da solo, uno stronzo da solo Sette giocatori, quattro squadre Sì Dice Eh, fra 40 Ok, appena finisce vedremo dove dobbiamo andare Il problema è dove uscire Oh, poi, Marco Si sta avvicinando, Davide, lo sento Si sta avvicinando È andato No, 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 aspetta, aspetta Va silenzio un attimo Lo sento, lo sento i passi Si, sento i passi, sento i passi Però non riesco Marco, il problema è che se usciamo sta qua fuori Eh, lo so, lo so Infatti non possiamo uscire, io non esco Eh, mancano nove secondi Eh, il secondo vuol dire lui Aspettiamo lui che se ne va e noi ce ne usciamo dopo Tanto sta qua vicino alla safe Noi possiamo, noi siamo anche vicino al muro che porta alla strada Se ci fai caso Noi possiamo anche scavare da dietro Vedi, si stanno scannando da di loro come gli animali Che facciamo, Marco? Eh, io vorrei aprire e lanciare tutte e tre le grenade che ho Aspetta, no, no, hanno finito di sparare Vuol dire che... Eh, infatti ne è morto uno, vedi Usciamo? No, no, aspetta, aspetta, aspetta Lasciamo che si scannino Marco, la safe sta arrivando E andiamo Usciamo, vai Da dove? Da la porta Oh, cazzo, la safe Adesso devi correre, vedi? Stanno là, stanno, aspetta Zitto, zitto, zitto Stanno là Oh, cazzo Oddio Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Cioè praticamente io ho volato, ho saltato, stavo volando E mentre stavo volando ho tenuto fisso il crosshair E ho sparato senza mirare Cioè ho fatto tipo un no-scopo che fanno su Modern Warfare 2 E l'ho beccato in testa, infatti è morto, vedi? Ah ma noi ormai siamo troppo forti Eh ma questa tattica stiamo disintegrando tutti quanti Che bello Dove sei? Non portando il soffeggino da terra Ti rispecchia Stai raiendo Ti sento da qua Non lo fate vincere Ho arrivato a mettere nel muro di dove vincere Sì abbiamo avuto muro Anche in testa Ok Ok Ma come si fa a mettere questa canzone quando fai il balletto? Cioè su quelle sono già fatte così oppure... Cioè si vede Sono quelle che ti compri dalla cosa Madonna Da fame Cioè mi compri una cosa che mi causa pure il copyright strike su la live Ah ma è vero ma a te non ti casa il copyright? No a me fine mo Con tutte le live che ho fatto avvicino a sta... Avvicino a sta gente che... Non mi è arrivato nessun richiamo Non mi è arrivato niente Per ora Anche perché poi considera di sottofondo Nelle live in mia ci sta sempre quella musichetta ncs Quindi secondo me si fa tipo una specie di mix e nel computer e il sistema non le rileva Marco tu atterri... trova una casetta qua a fianco a terra io ti aspetto qua Si io vado nella mini galera qua Qua c'è la mini galera ci sta Ok mi cerca di non morire No no non muoio Oddio fammi fare una rattata perchè... Ah c'è anche il lancia pifferi qua eh Il... cosa per lanciare le persone la Il cannone lancia le persone la ma cazzo si chiama non lo so Quel coso la insomma C'è anche la macchina eh Ma tu odio sta cosa che... c'è ma un po' più lunga la corsa non la potevano fare Vabbè Marco c'è tanto guarda non ti lamentare Eh lo so però c'è il mio personaggio ha fatto 10... mi sembra il personaggio di The Forest mi sembra Cioè c'è... Ah e il salto... il salto consuma pure l'energia capito? L'hai notato questo fatto? Quando tu... quando si ricarica corri e salta Vedi c'è... si fa una barretta giarla che serve... che ti dice che consuma quel pezzettino di energia in più Giuro ti piccono sto fortino e ti ammazzo Che armi hai Marco? Allora io sto... sto... sto fortinando un po' in giro ho preso la mitralietta tattica Poi c'ho la K417 e la pistola Ok... questo è un bel posto per ripararci Eh... il camioncino... il camioncino dici No 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 sopra sopra proprio Ma sopra dove? Eh andiamo Sopra la casa... andiamo Che... che ti serve a te le band o i kit grossi? Eh... il kit medico grosso lo porto io se ce l'hai Ok vieni vieni con me te lo do Aspetta fammi... mi rompi queste cose Che iniziamo a far bordare Allora tu portati i kit medici grossi e io mi porto le bandane Sulle scale c'è il kit medico grosso Mi prendo l'aug Mi prendo... Fammi chiudere sta porta L'unica cosa che mi dà fastidio è che sopra le cuffie non c'ho il Dolby Surround Quindi io sento i rumori Ma li sento... Li sento fissi capito? Ok... Tu ho quella finestra la e io metto questa finestra di qua Ok mi metto questa qua allora Senza farti vedere Giuseppe Ok apposta Abbiamo trovato un nuovo posto Ok io guardo la finestra Guarda io la pistola me la porto per emergenza non si sa mai sai Ma dobbiamo far capire ad Alessio che lui si deve stare fermo però Beh questa sarà la parte difficile No questa è la nostra tattica Si Cioè quando già... La cambiamo usavente quando siamo con Igor Perché almeno vabbè con Igor almeno lui sa giocare Ah lo so Ma Igor poi se noi troviamo... Se noi andiamo con la tattica sua Che dobbiamo fare assalto e spara Noi cioè... Non so se... Non so se potremmo essere d'aiuto in qualche mania Perché Igor si vede che è appunto più bravo Vabbè no io con lui ci riesco a vincere visto Che tu... Spari... D'assalto quando sono stato lontano Appena si avvicinano fai mitraglietta Finiti i colpi passapomba Vabbè Allora vado a farlo si Si come dovevi imparare a costruire Si Infatti mi sono imparato a costruire Ho visto Se provano si bene che erano tolto Che erano tolto Che erano tolto Rip vitraglietta Rip mouse dovevo a scalamuro Non stai live su Twitch? Eh ma pare ovvio Cazzo... Cazzo dice a fa' Su cose... Ho mai ovvio Pure se devo bere il caffè La live su tutti Ma ora la macchina appena devi vendola metti in garage Lo lasci fuori Questa fuori Poi quando me ne vado la porto giù Ti ho appena fatto la domanda Quando vai in garage Cioè quando te ne vai Dove la metti fuori? In garage In garage In quale? Ah quello dove stavo Quello di tuo padre Ce le stavano tutte... Ce le siamo presi quasi tutti quanti Inutilmente però Vabbè Oddio Non tanti inutilmente però In garage puoi fare altro letto Uno per le tazzine Altro per i piatti Uno per le scatole vuote Ti lascio 20 secondi da solo Arrivo subito Ok Vediamo come dobbiamo morir Ok Vediamo come dobbiamo morir Eccomi Eccomi qua Stavo Sto aggiustando un attimo i settaggi Del... Del gioco Un attimo solo eh Tanto non succede niente Cioè Cioè non sto facendo niente di part... Niente di estremo Cioè non sto facendo niente di partire 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 Si sta facendo a buio No C'ha daltonismo Troppo Troppo accenduato Aspetta un po' Ma Secondo me Il televisore Si sta facendo il viaggio Secondo me Ok Appena è passato Uno con la macchina Si ma Vedi se ci fai caso A nord 15 Ci stanno delle persone Che si stanno Stimitragliettando Dove stanno qua? Dove dove dove? Aspetta stanno Stanno proprio tipo Ah si si Li vedi? Laggiù stanno Si stanno dentro la Marco così ti vedono Marco così ti vedono C'è spuglio stanno Stanno Sono bosca di C'è spuglio da Lo so Lasciamoli stare Marco Non ci facciamo caso Se tu ti metti davanti alle finestre Ti vedono Vabbè è vero Io devo vedere Cioè nel senso La tattica del dito Io non vedo loro Non vedo loro Bello che Però se loro entrano Noi ci mettiamo Proprio qua E noi ci mettiamo Proprio qua Rimaniamo infatti Prepara la mitragliatrice Perché questi Secondo me saltano Abbiamo sempre fatto Né saltano Né ci beccano Eh se Se ci vedono Si Ma è strano Che fino ad adesso Non abbiamo beccato Nessuno Con il microfono acceso Con il microfono acceso Che ci ha venuto Qua che bestemmia addosso Su Warzone E praticamente Di prassi ormai Cioè noi Lasciamo il microfono acceso Di Crucchi che bestemiano E gli italiani E i napoletani E i francesi No Gli spray No Che fanno un bordello Ah scusa Aspetta No 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 Fermo Aspetta Sto imbarando i tasti Aspetta Oddio sei ristretta Però la zona Oddio Davide Qua non ci sono più Ci sono le casettine Ci sono le prossime casette Te le segnalo Marco Sì sì Marco qua Sì 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 Li sento Li sento Non ti mettere davanti a me Davide Che favore Davide Ma noi non abbiamo neanche Gli scudi E vabbè A chi cazzo Sparrano quelli Mi raccomando Non farti vedere dalla finestra Quindi mettiti in un lato Vedi dalla finestra Non mi vede nessuno Oh Stanno qua fuori Mi sa che mosagono E li metto qua Sì stanno fuori Stanno fuori E lasciali fuori Davide Io li metto qua Stanno salendo fra tre Eccolo Eccolo Appena entra Sparano un colpo in testa Marco tu da lì Non vedi niente Devi metterti qua Mi sono preparato Se nel caso Dovessero salire Appena sale Spariamo Che dobbiamo fa No loro stanno già sopra Eh aspettiamo Sì appena Appena entra E c'hai un po' di visuale Per poterlo vedere Lo massacchiamo Oddio Davide Deve hanno dato fuoco alla casa Davide sta arrivando il fuoco Ce ne dobbiamo andare Io sono giù Sti bastardi C'hai capito i pezzi di merda Eccola a sinistra A sinistra A sinistra A mia sinistra No ma non è Ammassagrato Oddio Manco pensa a curarmi Stanno gli altri Veloce 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 Eh da mancano Sette secondi No Eh no sei fottuto Sei fottuto Ha morto Minchia mi ha beccato a volo Eh da fottuto pure il fusil Quello vabbè No perché C'è Prima di questi sono entrati E quelli dalla montagna Ci hanno tirato i fatti di fuoco Va bene dai va bene Dodicesimi alla fine Prepariamoci Vabbè Vabbè Diciamo da un lato Meglio così perché Avevamo la doppia corona E quindi sapevano dove stavamo Eh Vabbè Beep 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 Ok Questo è uno dei tanti motivi per cui dicevo a te Vedi che le bombe con la incendiare funzionano Ma no Marco Marco non fai un premuglione sono cose inutili Eh però a noi ci hanno fatto scappare vedi Ma che vuol dire ma questo è perché ci ha avuto Quello che quello ci ha buttato Marco in un combattimento alla fine Quello sono cose inutili All'ultimo si Allora cerchiamo Una casubola Questa qua questa è una zona piccolina Mamma mia Ci buttiamo? Sì 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 C'è un'altra solo le 11 e mezza A mezzanotte stacchiamo Mamma mia Marco un'altra vittoria oggi Sarebbe il top Ma tanto che ore sono? C'è solo le 23 e 35 Ah sì ce la possiamo fare pure a mezzanotte Non è cazzo ce ne frega Ah tu stai nella casetta quella la Quella cosa la insomma Da attento c'hai nemici sotto Sotto il culo eh E il robot C'è il robot quello la che mo se ti vede ti ammazzi Ti fa un mazzo tanto quello eh Ando avvicinare Marco facciamo una cosa Prendi questa funivia qua sotto e saliamo la sopra La stavioni incendi io non c'ho niente Ah non c'hai proprio niente? Allora fai così Si Si stanno scannando l'anima qua eh Lo so però dobbiamo cercare di entrare e camperare Vediamo un po' ci riuscire No lo sta pieno Marco non è vero scappa scappa Non è vero scappa Prendi il cannone qua Prendilo fai subito Sparati Sparati nari Adesso ci sta la torretta la vedi? La vedete? Marco con la casetta blu che ne hai Eh Casa blu e torretta La vedi la torretta? Allora Io vado a casa blu Tu vedi la torretta Io vado alla torretta si Allora Oh qua c'è uno shieldone Qua Sto arrivando Sono al secondo piano Marco non mi fottere le casse e ti giuro di pisto No Ho preso solo l'oro Bravo Marco Allora E ancora un'altra Stater 1k4na7 Marco Aspetta te lo ridò Ti No No non era qui Ah si era È la k4na7 Vieni a prendere questo qua sopra Ti piace Aspetta dove sta Ma lo sai sopra Oh Queste cose Mi fotto pure Mi fotto pure questo qua Via A posto Ok Possiamo rimanere qua Dai ti rendi conto della gravità della cosa che hai fatto Questo incendio si è fermato Grazie a dio Sarebbe arrivare la casa Ci è mancato poco Oh no ho sbagliato Porco Mi sono pure messo paura Marco Tu ti fai proprio vedere dalla gente No li metto qua Io Mi faccio check in La check in La 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 c'è un cinghiale La Mamma Di che giorni Giovedì Cod Eh di solito Giovedì O mercoledì O giovedì O giovedì O giovedì O venerdì No Ah no Mercoledì O giovedì Poi gli altri giorni Non ci sanno Fanno due volte Settimane Si Apex come è diventato Ehm Da tempo Io ce l'ho Su Diciamo È una specie di esperienza Parallela Però È diventato Un cittoni Che O me Quella è la norma Io infatti Apex Non ci gioco più Cioè Ce l'ho solo sul computer Per occupare Occupare spazio Ma non ci gioco Perché A parte che non ci gioca nessuno Ma Poi è un gioco Tutto particolare Ma pure E' la stessa cosa Oggi ho mandato Oggi ho mandato Una clip A uno di questi ragazzi Che ho fatto vedere Tipo degli streamer Uno degli streamer Alcuni degli streamer Ex streamer Pi' importanti Della zona di twitch Ovviamente usa Che Facevano Tutti i top player Number one Usavano le cheat Invece Per Per vincere Capito Sti pezzi di merda Ci stava una Che faceva la modella Capito La modella La modella Proprio Cioè Le classiche modelle Che trovi su instagram No E questa qua Ciocava a wardson Alla sera E praticamente Ciocava a wardson Con le hack Cioè Si vedeva Che era troppo brava E questa A un certo punto Si è fregata Con le sue mani Che ha preso Il car 98 Quello tutto moddato Che si fombra Con i punti E Si è messo a mira Uno C'era dietro La mezza collina E ha fatto Un headshot Fenomenale Cioè Un headshot Praticamente Che dalla collina A lui Ci stava Tipo Mezzo Due millisecondi Di tempo Per pensarci E ha fatto Un headshot E è una cosa Praticamente Impossibile Ci stava Una cosa Che poteva fare Una cosa del genere Il computer Con qualche hack Vabbè Però Ripare sempre Il fatto Che c'è La modalità Multigiocatore Cioè La modalità Con i bot Pure Che figa Quella È indimenticabile La modalità Sopravvivenza Abbiamo Che torna Alessio A parte questo Abbiamo gioco Pure a Bloodborne Bloodborne Eh io Ti giuro Non ce l'ho mai Mette sto gioco Cioè Non mi ricordo Mai come è fatto Ma dice che devi Spara contro L'alieni Vabbè Poi Poi lo vedrò Ma sta arrivando La Sta arrivando La safe Davide No No Ancora Ci abbiamo Un minuto E cinquantacinque A me piacerebbe Gioco a Pubce Che cacchio No Ah perché È bello Pubce È come Come fortnite Soltanto che Nella vita reale Con la grafica Con la grafica La grafica E la fisica È fatto con La grafica Di un gioco Normale Marco Per quanto fa Caccare la grafica Di pubce Sembra Più bitterale Fortnite Non so Purtroppo Su Quel gioco Sopra La playstation Non l'hanno Storpiato Perché C'era Ma quello Quando è uscito Nel 2000 Eh quello 2016 2018 C'è Dopo Forte Ma Quello Ottimizzato Per il computer Non è Per la console È stata Una petizione Che l'ha Fatta uscire Per la console Quello L'incenamente Era per computer Però Non è neanche Cross Plattaform In maniera Completa Perché Io Se voglio Giocarci Insieme All'estito Forse Usava La playstation Non è Posso Al computer Perché Tra Marco Ma Ma Detto Igor Che Lui Ha PC E La cosa Qua E Forte Mi ha Permesso Con L'account Epic Games Di Avere Lo stesso Account In Tutte Due Le Parti Quindi Con Le Armi Con Tutte Le Cos' Già Passate No No Infatti Non è Non è Cross Si dice Cross Save Non è Cross Play Ma non è Cross Save Questo Gioco Che Cross S'è Passato Tutto Quanto Ha Lui La Roba La Roba Che C'è Sopra La Consola C'è L'angri Sopra Nintendo Ma Considera Che Tutte Le Cos' Che C'ho Io Sopra Sopra La Playstation Lo Sbloccare Con Il Plus Che Sono Cose Che Sopra Non Sono Per Quello Che Non Te La Fanno Da Eh Può Sì Sì Ma Comunque Non Mi Sotto Che Sia Cross Sopra Per Più Perché Da Tempo C'è Questa Un'operazione Che Fai Una Volta E Basta Non Che Stai Tutti Giorni A Verese Cross Seguono Dado Oggi A Destra Certo Un po Mi Dispiace Però C'è C'è Lama Sì Sì E Che Ci Stai Da Qua Best C'è Qualche Cosa Oh E Fungo 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 Cazzo Fa Scappa Aspetta Davide Fra ma Sta a scappare Eh Aspettami Eh Se ti becca qualcuno Io non ti posso aiutare Senza Questo Cazzo Di lama Lo so Devo sparare Che devo fa Non lo so A me Me lo dà come nemico Però Perché Sparaci Sparaci Ma Cazzo Ah Si Reabatte Penso È Duro A morire Attenzione È Molto Scatorpato Ah Mi ha dato Le munizioni Mi ha dato Dai Andiamo in questa casa Finistiamo C'è qualcosa Per il pompa Oh No Questo Non lo posso Prendere Ogni Sta sopra Sta sopra Qualcosa Ma questa Davide c'è una macchina In arrivo Nasconditi immediatamente Dentro la casa Oh Lancia Razzi Butta queste cose Per terra Ok C'è Il fucile a pompa Quello Questo è mio Ah Che cosa Ah No Mi ha dato tutto Tranne colpire il pompa Comunque Questo te lo Non posso dire Vabbè 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 Io ho Due fucile a pompa Comunque Se ti servono Eh A te Ti serve colpi Qualcosa Eh A me Mi servono I colpi Per il pompa A me Qualcosa Per il pompa Assalto Ce li hai Eh Nì Undici per L'Aug E Ventisei per Quella specie di fucile a cecchino Cos'è qualcosa che luccica a sinistra Mi fa sprecare i colpi va Davide si è disconnesso Ovviamente Ah Scureccia Sei vivo Davide Sei vivo Davide Davide non ti sento Davide Oh Cazzo Attra Cazzo Ass Cazzo Cazzo Sei vivo Oh er Cazzo Motivate De counted Lord Aren't Embatt S Ten Non ti sento Non ti sento Non ti sento Non ti sento Mi senti da Aspetta un attimo Di qualcosa Mi senti? Aspetta un po', ci dobbiamo inventare qualcosa Non ti sento Non ti sento Come, mi senti? Mi senti, Davide? Mi senti? Non ti sento, da Ah, non ti sento No, non ti sento vabbè